Secondo la CNA, il decreto Cura Italia contenente le misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell'emergenza coronavirus sull'economia è solo un primo passo. Le risorse, seppur importanti, 25 miliardi di euro, non sono però all'altezza di quello che deve essere una manovra più robusta, più corposa. Delle misure di sostegno all'economia molto più impattanti. Sono un po' deluso dal fatto che la nostra provincia, la provincia di Peso Urbino, non abbia avuto quella menzione particolare perché altre situazioni ci sono state di differenziazione rispetto anche ad egevolazioni, ma lo aspettavo anche per la nostra provincia e questo lo ritengo non giusto. Il grido di allarme dell'associazione che in provincia rappresenta 5.400 imprese è rivolto alla vendita di generi alimentari e prima necessità che sono a rischio per assenza di mascherine per i lavoratori all'interno delle aziende. La CNA di Pesaro Urbino denuncia questa situazione paradossale, inviando due sollecitazioni urgenti alla Giunta regionale delle Marche e alla protezione civile regionale. Dall'emergenza primaria di chi produce alimentare, settore alimentare, anche degli stessi supermercati che rischiano di chiudere perché non ci sono le protezioni e le mascherine. Quindi subito dopo la sanità bisogna che anche le aziende che producono nella filiera alimentare di primissima necessità e anche i supermercati ne vengono immediatamente dotati, altrimenti rischiamo davvero di rimanere senza cibo e questo sarebbe un ulteriore dramma rispetto a quello che stiamo vivendo. La Confcommercio chiede invece un sostegno economico anche per le attività che secondo il decreto possono restare aperte e che oggi secondo la categoria subiscono un calo degli incassi dell'80% in meno rispetto a un fatturato normale. Alcune misure vanno bene ma ce ne sono altre che comunque non sono sufficienti e sulle quali bisogna sicuramente intervenire. Quindi bene la cassa integrazione per le aziende anche sotto un dipendente, la cassa integrazione in deroga, bene la sanità, bene gli aiuti alle famiglie, la sospensione anche dei tributi previdenziali, quindi anche per quanto riguarda tutti i tributi, ma ci sono delle cose che assolutamente non vanno bene e che comunque sono insufficienti. Innanzitutto diciamo che posticipare comunque di due mesi sicuramente i pagamenti non sarà comunque sufficiente per la ripresa. Anche per quanto riguarda gli incentivi per gli autonomi, per i professionisti, 600 euro sono veramente pochi. Inoltre anche il credito d'imposta del 60% per quanto riguarda le locazioni anche in questo caso è insufficiente per alcuni aspetti, nel senso che è identificato per botteghe e negozi, ma non vengono poi messi alberghi, ristoranti, bar e questo è un punto che è importantissimo. Secondo l'associazione di categoria bisogna creare anche un fondo perduto di liquidità per la ripresa economica delle aziende in difficoltà, oltre a dare ulteriore aiuto ai comuni con un secondo decreto per poter assistere imprese a livello territoriale.